Riprenderanno giovedì mattina i lavori della strada statale 640. In completamento la Commissione Lavori Pubblici dell'Assemblea regionale lo ha comunicato al sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo che è stato sentito in aduizione. Erano presenti all'incontro anche i creditori dei lavoratori che hanno deciso di aprire un canale fiduciario nei confronti dell'ANAS contraente generale del progetto. Il sindaco giovedì si recherà ai cantieri per controllare l'evoluzione dei lavori. Tema della discussione è anche il viadotto San Giuliano per il quale è stato annunciato il completamento dello studio di fattibilità.